Davanti a oltre 300 persone si è allenato il Torino oggi a Mondovì e Torino è arrivato intorno a Luna, pranzo in albergo e poi un po' di riposo prima della seduta pomeridiana per le 17. Tutto il gruppo presente, esclusivamente i giocatori impegnati in nazionale, tra questi c'erano anche diversi giocatori della primavera che numericamente erano utili proprio per svolgere l'allenamento di oggi. L'allenamento di oggi che è consistito in una prima parte di riscaldamento atletico, poi una lunga partitella a ranghi misti che ha visto segnare Bovo, Meggiorini, Immobile e Vives, in particolare da segnalare alla rete di Bovo, particolarmente bella con un tiro da fuori che colpisce prima il palo e poi batte un incolpevole padelli. Tra gli episodi da segnalare nell'allenamento di oggi è stato anche un piccolo problema per Barreto che ha dovuto lasciare anzitempo l'allenamento, mentre Masiello ha svolto soltanto l'allenamento differenziato. Domani è prevista una doppia seduta per il Torino che continuerà ad allenarsi qui a Mondovì in preparazione della partita di Coppa Italia prevista per sabato 17 alle ore 20.45 contro il Pescara. Salutiamo tutti gli amici di Toro.it e ci vediamo al prossimo aggiornamento.